No, non la voglio fare. Senza questa iniezione rischia un'eritmia fatale. Dite al Maggiore Matthewson che non mi lascerò più curare finché non mi concederà un'intervista in televisione. Non puoi credere sul serio che lo accetteranno. Si deve sapere che non è stato il video il motivo dell'attacco. Tutti devono sapere perché l'ho fatto. Chi pensa che lei sia un traditore continuerà a pensare che lo è. Chi pensa che lei sia un eroe continuerà a pensare che è un eroe. La verità farà differenza. Se papà fosse qui ti sopplicherebbe di non fare una cosa simile. Se papà fosse qui sarebbe fiero di me. I teorici della cospirazione impazziranno se il paziente muore. Gliel'ho detto e lui ha risposto che sarebbe meno dannoso che dare al ragazzo una piattaforma nazionale. Ora cosa facciamo? Spieghi al suo fratello che ha calcato troppo la mano. Non farà nessuna differenza. L'idiota crede di aver fatto la cosa giusta. E se convinciamo la corte che il suo rifiuto è dovuto a un disordine psichiatrico di fondo? Gli assegnano un tutore e noi facciamo ciò che vogliamo. Una frode. Grandioso. Disordine narcisistico della personalità. La diffusione del video e il rifiuto delle cure indicano che non ha paura delle conseguenze. Invece di imbrogliare il giudice gli fai perdere tempo? Non classificherà un disordine della personalità come malattia mentale. Se un ufficiale decorato, che è anche fratello del paziente, lo conferma, potrebbe farlo. Volete che firmi un pezzo di carta che dica che mio fratello è pazzo per aver fatto ciò che crede giusto? Io voglio che gli salvi la vita. Il cuore può cedere da un momento all'altro. Lui è un idiota, ma non è pazzo.